Oggi ciavattoni romani, il dolce romano super goloso dal cuore cremosissimo di tanta nutella, sono facili, veloci e buonissimi. Inizia con lo srotolare, tre rotoli di pasta sfoglia rettangolare e mettili uno dopo l'altro così. Prendi un mattarello e schiacciali per bene, devi ottenere un'unica sfoglia, in questo modo. Poi arrotola per bene il tutto per dargli la forma di un rotolo e con le mani compatta per bene. Prendi un coltello e taglia tutto il rotolo in girelle dello spessore di 3-4 cm così. Lo zucchero mettilo sul tavolo da lavoro, spalmalo per bene, metti sopra le girelle e schiacciale con l'aiuto di un mattarello rigirandole spesso sullo zucchero. Devi dargli la forma di lingue così. Farcisci tutte le lingue con un cucchiaio di nutella, ripiega, sigilla dove c'è il ripieno, in questo modo. Metti tutte le lingue farcite in teglia con carta da forno e cuaci in forno ed eccoli qua i nostri ciabattoni romani, bellissimi, croccantissimi fuori e super cremosi e golosissimi dentro. Amici provate il dolcetto romano super facile e golosissimo.